Sono le 10 e siamo pronti per andare. E allora tutti a cantare insieme, fuori la voce! Benvenuti, bentornato Peders, bentornato Filiati, abbiamo fatto il nostro populista coso dipinto verso. Posso stare tra di voi, per favore? Anche perché siamo a tono, eh? E allora, Comunistico Rolex, un album che... come sta andando così? Vogliamo un'informazione su quello che è l'andamento? Abbiamo saputo delle notizie bellissime sui risultati di vendita. No, non lo sappiamo. Non lo sappiamo e a quanto pare a Palermo bellissima, comunque. Non eri uno! Allora, Jay, faccio una domanda veloce a tutti e due, proprio in questa prima fase di questo incontro. Comunistico Rolex, un problema di coerenza. Per voi la coerenza è ancora un valore oggi? Sono io, grazie. Allora, la coerenza è un valore nel momento dove non si mette a se stessi. Uno può cambiare idea, basta che lo ammette. Non è che per non deludere altri fai finta di essere sempre la stessa persona. Quindi bisogna essere coerenti con quello che si pensa in quel momento. In quel caso sì, la coerenza è. Allora, la coerenza è un valore. Allora, la coerenza è un valore.